Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mindtest Sono Mazzetess e adesso vi farò vedere la costruzione che avevo pensato l'altra volta L'ultimo episodio ci siamo lasciati con un abbozzo dell'edificio della cucina Sono andato in creative nel frattempo e ho costruito questo Che è un edificio misto, adesso ho ancora un paio di dubbi su questo legno qua Però adesso vi spiego comunque tutto Allora, come potete vedere è un edificio abbastanza dalle dimensioni medie, diciamo Ed è costruito con desert stone brick e stone brick principalmente Il pieno di sotto è costruito con desert stone brick Con delle finestre 2x1 in entrambi i lati E invece la parte superiore è costruita con stone brick In pratica Con la stessa configurazione delle finestre Solo che ho fatto una finestra centrale qua Costruita appunto, costruita con 4 scale messe a quadrato Il problema delle texture di mine test fa sì che queste non si confondano bene con le altre Si vede un po' che sono delle scale Però comunque mi piaceva l'idea della finestra centrale Tra un piano e l'altro c'è un aumento di larghezza, diciamo E questo è stato compensato con delle scale di legno e degli slab posti nelle zone ad angolo Dato che le scale angolari non esistono su mine test E questo continua per tutto il contorno Nel secondo piano ne abbiamo parlato e poi abbiamo un tetto qua composto da blocchi interi di legno e slab Sono in deciso appunto se mettere del legno di un altro colore magari più scuro O mantenere questo contrasto che è comunque carino Per passare dai desert stone brick che sono di colore appunto marroncino A questo grigio abbastanza chiaro degli stone brick Secondo me potrebbe anche starci il legno normale Dietro ho fatto questa specie di canna fumaria con della cobblestone E in cima ho messo due blocchi di erba Dell'erba a simboleggiare una fumata Anche se in realtà non essendo grigia, non essendo nera Rende poco l'idea Forse è meglio metterlo senza niente Però a me piaceva comunque con un tocco di... Cioè con l'erba, vabbè, poi si... Vedrò come farlo nel mondo... Nel mondo... Con il survival Qua come potete vedere ho messo il pavimento di stone brick Anche per stare meglio con il colore della cobblestone E per non fare un'atmosfera completa di desert stone brick Ci sono due fornaci per lato di qua e due fornaci per lato di qua Accanto ad esse ho messo un blocco di copper Uno per utilizzare il copper che è presente nella... Nella vanilla, diciamo E due perché sembra tipo un tavolo da lavoro alla fine, no? Per impastare il pane e cose così E poi dopo cuocerlo Piuttosto che impastare i dolci eccetera eccetera Qua appunto c'è il caminetto Fatto con due blocchi di lava Qua ci sono degli slab Per impedire appunto alla gente di finire per sbaglio nel fuoco Per riparare dal fuoco E ho messo altri due slab qua sopra Per impedire appunto che ci fosse lo spazio Perché non lo so, un bambino caschi dentro il fuoco per sbaglio Eccetera eccetera Il soffitto l'ho fatto con legno appunto per continuare lo stile esterno Solo che qua appunto ho messo della cobblestone Per evitare che ci fossero... Che il fuoco si propagasse diciamo verso l'alto Essendoci alte temperature qua per la cucina Ecco in mind test di sicuro non succederebbe che il fuoco si espanda qua Però era appunto per renderlo più realistico Ho messo delle scalette poi di lato Dai due lati per salire al piano superiore Che appunto mantiene qua il legno normale Qua ci sono degli slab di legno Ecco no appunto Questi sono blocchi interi Questo è legno invece l'ho messo slab Perché mi pareva più carino così Poi anche con questo rialzo Qua si può vedere alla finestra Qua c'è la parete mantenuta per la canna fumaria Insomma questo è il soffitto dietro il cammino Dove c'è il caminetto E qua ho messo due tavoli da lavoro E qui ci sono delle fornaci Delle ceste per archiviare le varie cose Insomma le varie cibi eccetera eccetera Le finestre credo che le lascerò senza vetri Perché la texture del vetro non mi piace molto Soprattutto quando ci sono Ci sono più vetri di seguito Che bel tramonto tra l'altro E niente quindi questa è la mia idea per Per la cucina L'ho rivista un paio di volte Ma credo che sia Credo che la farò così Quindi adesso ci rivediamo nel mondo in survival E vi farò vedere appunto La cucina ricostruita Questa qua ricostruita nell'altro mondo Già che ci sono Che sto parlando Vi spiego L'altro video Mi scuso È venuto con bassissimi fps Proprio molto visibile Anche occhio nudo Che si è venuto male Perché ho provato Delle nuove configurazioni Per i codec video e audio Che si sono rivelate fallimentari Però per questo video Non dovrebbero esserci problemi Ho già fatto delle altre prove prima E in più sugli stessi codec Che ho usato prima Ci rivediamo allora in survival A dopo Stavo costruendo nel mondo di Mindtest E Succede qualcosa di strano Non riesco a capire Perché Ma Guardate Si piazza sotto E non ha nessunissima voglia di piazzarsi sopra Non so per quale strano bug Però niente Questo amico stringerà a non mettere questi slab laterali Che sarebbero stati molto carini Ma Eh GG Quindi Niente Ci vediamo tra poco Mentre farmo un po' di legno Volevo farvi vedere Anche Quello che ho trovato Andando giù in caverna Eh Off camera Ho preso del carbone Dell'oro Altro oro Dei diamanti Parecchi diamanti Anche di altro tipo E mi sono Fatto anche degli strumenti di diamanti Infatti Che riparerò poi utilizzando Lo strumento che ripara gli oggetti E ho farmato anche un sacco di Desert stone Di là In un picco E vi farò vedere magari poi in seguito Nel frattempo Continuo a farmare Come erano belli i tempi della lava infinita Invece eccomi scendere nelle profondità più austere Per recuperare un piccolo secchio di lava Tra l'altro ho solo un secchio Ma vaffan bro Ho preso solo un secchio Dovrò ritornare in su Cioè ritornare in su E ritornare in giù E va Ok che fail Vabbè Ci vediamo dopo Stavo aspettando che cuocesse l'altra stone Per fare gli stone brick Ho detto Togliamo tutta questa terra E per impedire che i due blocchi di lava Che avevo appena conquistato E portato in salvo Uscissero Ho detto Tolgo la terra e metto subito lo stone brick Solo che questo non l'ho piazzato Qua dove è ora L'ho piazzato qua Dove c'è Dove c'era la lava Questo Significa Guai grossi Devo rifarmi di nuovo Mille mila Milioni Di miliardi Di mili Di scale Quaggiù Per la lava E poi perché ora Me li lascia mettere qua sopra Gli slab Che gioco malvagio Che gioco malvagio Ce l'ha con me Ma in test Io lo so che ce l'hai con me Ma non la passerai liscia Posizioniamo Gli ultimi Componenti Di questo Epicissimo Edificio Beh epicissimo Vabbè Sì no è epicissimo Per forza Perché Con tutto il tempo che ci ho perso Per andare a prendere la lava Se non è epico No cioè Lo è Basta Non ci sono storie Lo illuminiamo E se mettessimo delle torce qua Sì Bello O qua forse Meglio ancora Sì 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 Un paio di torciazze qua E qua E qua E qua E qua E io direi che possiamo anche inaugurarlo Non abbiamo però un Un nastro rosso da tagliare Andiamo a prendere Un nastro rosso Vediamo se c'è un Nastro Un qualcosa Della lana Avremo pur della lana Tipo Non lo so Lana arancione Perfetto Andrà benissimo No prendiamone due blocchi E forbici Non ce ne sono Però prenderemo Una spada Dai No Non volevo così Eccoci Benvenuti In questo fantastico giorno Che è una notte All'inaugurazione Della nuova cucina Clap 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 Bello bello Bellissima Bellissima cucina Guardate il design Ultramoderno Ultracompatto Dell'edificio E con tutto Il tutto E molto Bello E vi farà passare Delle ore felici In allegria Con tutti i vostri Migliori amici Detto questo Credo che sia meglio Che Andiamo a dormire Perché se no Con tutti i mob Che ci sono Qua rischiamo di Lasciarci le penne In realtà Non è vero Però Poco male E' più bello Il giorno Viva il giorno Viva la luce E poi tutto il giorno Tutto il giorno Che lavoriamo Tutta la notte Eh no Non si lavora Anche di notte Perché Per carità Insomma Pretendete mica Che lavori anche la notte Non sono neanche Partner di youtube Niente Biggy money E in più Dovrei lavorare Anche tutta la notte Eh no Così Così Proprio non mi pare Una buona idea Comunque Dove sto andando Vi faccio vedere Il mio piccolo farmino Di Di desert stone Ho fatto Ho pensato Di sfruttare Questo enorme Altipiano Di Di desert stone Che è proprio qua Vicino a casa E Ne ho Fatti fuori Diciamo più o meno Tre piani Per un totale Di Cinque stack Di desert stone No Sì Cinque stack Qualcosa Forse E Che sono niente Cioè In desert stone Brick Sono Neanche due stack Per fortuna Per quell'edificio Mi è bastato Un solo stack Di desert stone Brick Mentre invece Di stone Brick Mi è voluto Eh Mi è voluto Uno stack e mezzo In pratica Di Di stone Brick E quindi Per uno stack E mezzo Vuol dire Che ho dovuto Comunque Cuocere Otto stack Di cobblestone Un'eternità Un'infinità Non 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 Però mi piace Mi piace Questa cucinotta Qua Poi dovrei Anche rivedere Oltre al fatto Che dobbiamo Espandere Qua la stradina E che quindi Dovremmo Questi sono Blocchi Vero Ma abbiamo Una palla Di diamante Perché Farla a mano Perché È troppo potente La palla Di diamante Mannaggia Nel senso Dovremmo Poi Espandere La stradina Perché Dobbiamo Portarla A termine Insomma Ecco qua Ecco qua Ecco Wow Per un pezzo Vabbè Abbiamo questo Perfetto Qua anche Così da sistemare Un attimo Il tutto Poi ecco Qua dovremmo Rivedere Un attimo Insieme Come Mettere Le canne Da zucchero O detti Anche papiri Per gli amici Perché Mi pare Che qua Su Mindtest Il nome Sia Papiruz Piruz Nel senso Di papiruz Ma Perché Oh Oggi Mindtest Ce l'ha con me Ce l'ha con me Se non fosse Per voi Eh Ormai L'avrei Già Picchiato Violentemente Questo ragazzino Perché Non mi pare Proprio il caso Che uno si comporti In questo modo Ecco Iniziamo a eliminare Questo Stavo per rompere Un vetro E rompere i vetri E sempre Porta sempre Particolarmente Sfortuna Quindi Consigliamo agli amici A casa Di non farlo Di non Mettersi a rompere i vetri Soprattutto quelli di casa Perché porta Sfortuna Potreste trovarvi Addirittura Di fronte A un Genitore Inferocito Che Decide Che è giunta La vostra ora E quindi Vi si carificherà Al dio Dei genitori Arrabbiati Questa roba qua La togliamo Tanto Sappiamo che Le sugar cane Possono essere Ripiantate Ne abbiamo A sufficienza Per ora Suppongo Ce ne serviranno altre Di sicuro Per La cucina Se vogliamo iniziare A fare del cibo Perché Danno lo zucchero Lo zucchero è un ingrediente Molto importante Per Di vari cibi Insomma Qua Chiudiamo Aia No Forse non abbiamo Una fonte infinita Qua vicino Meglio Spostarla Ah ma no Che scemo Tutti L'orto Sono fonti infinite Che scemo Che scemo E voi non mi dite niente Perché non mi dite niente Che ragazzi Maleducati Eh ma io non lo so La gente Dal giorno d'oggi Dal giorno d'oggi In poi La gente Non si comporta più Come si comportava Una volta Sono questioni Assai gravi Assai gravi Vabbè ok Basta Con queste Cavolate Stavo dicendo Si dovremmo pensare A un posto dove Infilare Quelle sugar cane Ma credo che Il Il posto migliore Sia tipo E qua Potremmo fare un laghetto Con le sugar cane Qua intorno Tanto non è una zona Di passaggio Per ora Mentre quella Era proprio Di passaggio Over 9000 C'è un passaggio Si non importa Tanto il Ho lo strumento Per Ricreare Tutti gli oggetti Cioè Ricreare No Nel senso Aggiustare Quindi credo Che vada Più che benissimo Che io Tolga Anche l'erba Con la pala Di diamante Infatti Se vedete L'ascia Che è mezza rotta È mezza rotta Proprio perché È solo di ferro E quindi Voglio poi farmene Una almeno Almeno di mese Se non di diamante Ma credo di avere Anche abbastanza diamanti Per farmi La Per farmi La 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 Lascia in In diamante Oggi Sono stupido Scusate Qua toglierei Anche il legno Per fare Tipo Che la stradina Passa In là Verso il Verso l'orticello Insomma Uno passa Vai là Vai là Verso le piantagioni Poi ci metteremo Magari delle Oh non mi vengono Le parole Oggi Non mi vengono Le parole Come schiamano Quegli affari Che sono tipo Fatti con gli stecchetti Le palizzate Insomma Le fence Ecco Le fence Le fence Perché non mi veniva Un termine Come fence Vabbè così No forse questi no Questi non ci stanno E poi tanto Dovremmo pensare Al cosa fare Quando avremo messo Le Le fence E per ora Quindi non è un problema Questi Suppongo che Abbiano bisogno Di illuminazione Quindi le mettiamo così Qua Non ho lasciato Della roba Senza erba Vero Perché io Ho il terrore Di lasciare Roba senza Erba No Qua è tutto a posto La canna fumari Eh sono indeciso Se mettere Sulla canna fumari E le erbette Oppure no Però vabbè Ormai L'abbiamo inaugurato E quindi Va bene così Va bene così Qua c'è l'erba Direttamente Non so se poi Andrò a togliere Quello Magari questi due piani Potrei toglierli Non lo so Facciamo così Visto che il video Giunge al suo termine Perché sono ormai 21 minuti Che registro E molto Ancora più tempo Che lavoro Per questo affare qua Vi chiedo Di lasciarmi un commento Dicendo Se pensate Che sia meglio Senza questo Promontorio Senza questo Cosa di erba Oppure Con anche Quello E se vi piace L'idea Delle sugar cane Messe Là in quello Spezzo Dove vi ho fatto Vedere prima Detto questo Io vi saluto Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti